ciao a tutti amici benvenuti in questo nuovo video io sono anna e oggi siamo di nuovo sulla serie di minecraft survival e prima di che volevo dirvi anche che scusate se non esce la serie il film tra virgolette super lorenzo ma è perché è molto complicato da fare e dobbiamo ancora ragionare quello che potremmo fare perché dopo dobbiamo pensare e poi ci mettiamo anche un sacco a farlo perché dobbiamo fare un sacco di tagli un sacco di roba quindi ci mettiamo un po' si comunque possiamo cominciare allora andiamo avanti con scavare questi bellissimi questi bellissimi perché sono al plurale questo bellissimo ferro con l'avventura di questa miniera aiuto no ma perché quando perché perché quando io faccio croare sempre tutto sempre tutto faccio crollare cioè non lo so perché perché devo fare sempre colore tutto uffi mi chiameremi tutti mi chiamo adesso mi chiamatemi la persona che fa cadere tutto allora scaviamo il mio bellissimo ferro è stato sepolto ecco il ferro sono riuscita a trovarlo voilà a parte questo tutto questa cosa qui che si è formata fate finta che non si fate finta di niente non è vero ok scusate un secondo me è diventato mio babbo e comunque e andiamo avanti intanto vedete un pochino scavato perché volevo cercare di passare qua dietro faccio una scala perché dopo ho detto una indietro faccio un'altra grotta e andiamo avanti con la nostra avventura e andiamo avanti con la nostra avventura e andiamo a iniziare a auch lazia andiamo a un Farose Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.